ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale nel tutorial di oggi voglio farvi vedere come realizzare questo bellissimo punto all'uncinetto è molto semplice perché si ripetono sempre e solo due righe ma come potete vedere di grande effetto e con questo punto poi possiamo realizzare coperte cuscini tappeti ma anche capi d'abbigliamento possiamo utilizzare qualsiasi tipo di filato sia cotone che acrilico prendiamo allora il nostro filato l'uncinetto come prima cosa andiamo a fare un capietto iniziale e poi in base a quello che andiamo a fare carichiamo catenelle che siano di numero dispari per farvi vedere oggi questo bellissimo punto io vado a caricare un totale di 25 catenelle 1 2 3 4 5 fino a 25 nel mio caso dopo aver caricato le vostre catenelle che vi ricordo devono essere di numero dispari saltiamo la prima catenella entriamo nella seconda e andiamo a fare un punto basso entro pesco il filo lo porto di qua ho due asole prendo il filo e chiudo tutte e due le asole insieme abbiamo fatto un punto basso entro nella prossima catenella disponibile e vado a fare un altro punto basso nella prossima catenella il prossimo punto basso andremo a fare in questa prima riga un punto basso in ogni catenella fino a lavorare su tutte le nostre catenelle ho lavorato in tutte le mie catenelle e ho terminato la riga numero 1 adesso andiamo a fare 2 catenelle e voltiamo il nostro lavoro iniziando riga numero 2 prendiamo il filo sull'uncinetto saltiamo qua il primo punto entriamo nel punto successivo e facciamo una mezza maglia alta pesco il filo lo porto di qua ho tre asole sull'uncinetto prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme riprendo il filo sull'uncinetto adesso abbiamo qua questo spazio dietro la mezza maglia alta entriamo con l'uncinetto peschiamo il filo lo portiamo di qua abbiamo di nuovo tre asole sull'uncinetto prendiamo il filo e chiudiamo tutte e tre le asole insieme carichiamo il filo sull'uncinetto saltiamo il prossimo punto entriamo nel punto successivo e ripetiamo una mezza maglia alta poi come notate si forma questo spazio carichiamo il filo entriamo all'interno dello spazio peschiamo il filo lo portiamo di qua abbiamo di nuovo tre asole prendiamo il filo e chiudiamo le tre asole insieme è un lavoro veramente facilissimo carico il filo salto il prossimo punto entro nel punto successivo vado a fare la prima mezza maglia alta carico il filo entro nello spazio che ho dietro la mezza maglia alta carico il filo lo porto di qua ho tre asole che chiudo insieme praticamente andiamo a fare una mezza maglia alta nel punto e poi una mezza maglia alta nello spazio che dietro il punto carico il filo saltiamo sempre una maglia entriamo nella prossima e andiamo a fare la mezza maglia alta carico il filo entro nello spazio che trovo dietro la maglia e vado a fare un'altra mezza maglia alta di nuovo carico il filo salto un punto entro nel punto successivo faccio la mezza maglia alta carico il filo entro nello spazio e vado a fare una seconda mezza maglia alta carico il filo salto un punto entro nel punto successivo faccio la mezza maglia alta carico il filo entro nello spazio e faccio un'altra mezza maglia alta e come potete vedere si può già notare un bel punto una bella texture e in questo modo procediamo fino alla fine della riga arrivata quasi alla fine della riga ci restano due maglie una due prendiamo il filo sull'uncinetto saltiamo la penultima entriamo nell'ultima e andiamo a fare una mezza maglia alta e abbiamo così terminato riga numero 2 andiamo a fare una catenella e voltiamo il nostro lavoro iniziamo riga numero 3 adesso qua abbiamo la catenella qua abbiamo il primo punto in questa riga andiamo a lavorare punti bassi però prendiamo sempre solo la costina davanti di ogni punto per cui entro nella costina davanti il primo punto e faccio un punto basso il prossimo punto disponibile entro nella costina davanti e faccio il punto basso il prossimo punto prendo la costina davanti e faccio un punto basso il prossimo punto entro nella costina davanti e faccio il punto basso il prossimo punto entro nella costina davanti e vado a fare il mio punto basso e lavoro in questo modo fino al termine di questa riga sono arrivata quasi al termine della riga e l'ultimo punto basso lo dobbiamo fare nella seconda catenella all'inizio della riga dove andiamo a fare le mezze maglie alte facciamo sempre due catenelle e in questa riga dove andiamo a fare i punti bassi entriamo nella seconda catenella anche qui nella costa davanti e facciamo il punto basso e abbiamo terminato anche la riga numero 3 in pratica si ripetono sempre queste due righe le righe della riga della mezza maglia alta la riga dei punti bassi presi in costa davanti per cui adesso andiamo a fare le nostre due catenelle voltiamo il nostro lavoro e iniziamo di nuovo la riga numero 2 saltiamo il primo punto carichiamo il filo entriamo nel prossimo punto e andiamo a fare la mezza maglia alta carichiamo il filo saltiamo il punto entriamo nel prossimo andiamo a fare la mezza maglia alta carichiamo il filo entriamo nello spazio che c'è dietro la mezza maglia alta che abbiamo appena fatto e andiamo a ripetere una mezza maglia alta filo sull'uncinetto saltiamo il prossimo punto entriamo in quello successivo facciamo la mezza maglia alta carichiamo il filo entriamo nello spazio e andiamo a fare la mezza maglia alta di nuovo carichiamo il filo saltiamo un punto entriamo in quello successivo mezza maglia alta ricarichiamo entriamo nello spazio dietro e facciamo la mezza maglia alta e lo facciamo fino al termine di questa riga sono arrivata quasi al termine e quando facciamo la riga delle mezze maglie alte ci avanzano due maglie carichiamo il filo saltiamo la penultima entriamo nell'ultima e andiamo a fare una mezza maglia alta e abbiamo terminato anche questa riga adesso andiamo a fare una catenella voltiamo il nostro lavoro e andiamo a ripetere riga numero 3 che è la riga dei punti bassi presi nella costina davanti di ogni punto per cui entro nel primo punto nella costina davanti e faccio il punto basso nel prossimo punto nella costina davanti il punto basso nel prossimo punto nella costina davanti punto basso e così alterniamo riga 2 e riga numero 3 e alla fine avremo questo bellissimo risultato come avete visto il punto è di grande effetto anche molto semplice spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial ciao